Cinque carrozze per un totale di 400 passeggeri. Sono i numeri del treno bianca-azzurro che in poco tempo è stato organizzato dal patron del Pescara a calcio a 5 Danilo Iannascoli per consentire ai tifosi di viaggiare gratuitamente verso Ancona per assistere a gara 4 della finale Scudetto tra Pescara e Luparense. La partita si gioca nell'impianto d'orico del Palarossini adiecente allo stadio del Conero per via della scolifica del campo pescarese dopo la rissa di gara 1. Non mancano dunque gli sforzi per dare alla squadra un sostegno ideale per la rimonta Scudetto in un palasport peraltro dalle grandi dimensioni con oltre 5.000 posti disponibili. Da gara 3 a gara 4 il Pescara ha potuto sfruttare alcuni giorni per migliorare le condizioni di leggero e salas le cui presenze seppur lontani dalla miglior condizione sono state comunque determinanti per tenere in vita le speranze Scudetto. Sarà importante che entrambi possano aumentare il minutaggio. A rendere difficile la gara c'è anche il fatto che Luparense giocherà con quella concentrazione in parte mancata venerdì scorso quando la partita sembrava potesse essere una formalità e lo Scudetto già in tasca. Torneranno sulle panchine i due allenatori Colini e Marin aspetto da non sottovalutare. Diversi pescaresi si muoveranno anche con mezzi privati per raggiungere Ancona. Inutile sottolineare che il Pescara deve vincere per portare la serie alla bella di venerdì prossimo sempre ad Ancona. Direzione di gara affidata a Malfer di Rovereto e Cursi di Iesi.